Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo La Memoria del Popolo. Spero dopo la condividerete a tutti. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia dal titolo La Memoria del Popolo perché tanto onore meritano i vecchietti che ci hanno tramandato la storia. Con i loro sacrifici assurdi hanno donato quella memoria che ora ricordiamo perché è stato il nostro passato glorioso. Grazie a loro e grazie ai grandiosi sacrifici che hanno fatto nel tempo hanno quindi superato tutte le difficoltà anche nei tempi di guerra. Hanno combattuto per ottenere col sangue il pane e la terra. E adoro molto le loro mani callose, vecchie e doloranti che nei campi hanno lavorato per tramandare le generazioni. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La Memoria del Popolo. Tanto onore ai vecchietti che ci hanno tramandato la storia e cui loro sacrifici assurdi ci hanno donato somma memoria. Nei tempi di guerra hanno combattuto per ottenere col sangue il pane e la terra per cortivarla e darci vino e pane. Quanto adoro le loro mani vecchie, callose e doloranti che hanno lavorato nei campi per donarci degni risultati. La memoria del popolo sono loro i cari vecchietti. Far loro una statua è poco perché meritano i gloriosi gaudi. Grazie, spero la condividerete a tutti. Buona serata.